La Regione Puglia ottemperà gli obblighi imposti dal Governo per il mancato conseguimento del patto di stabilità negli anni passati. Ieri Nichivendo l'aveva detto di obbedire alle prescrizioni imposte dai ministri Tremonti, Fazio e Fitto circa il piano di rientro che la Regione dovrà presentare entro il 15 ottobre. Oggi il Presidente ha confermato le sue intenzioni con una lettera ai ministri ed ha reso pubblica la missiva. Si è detto dispiaciuto del modo con cui il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha respinto il piano nonostante fosse pronto. Dal 29 luglio scorso se fosse passato la Regione avrebbe già sbloccato a suo favore 500 milioni di euro di fondi della sanità. Adesso il Governatore auspica che il piano venga approvato il prima possibile per il bene della Puglia. Allo stesso tempo il Presidente della Giunta nella lettera ha mostrato le sue perplessità sul blocco delle internalizzazioni dei dipendenti delle società a capitale pubblico che lavorano per conto delle ASL chiesto dal Governo. Le internalizzazioni, scrive Vendola, hanno interrotto processi di degenerazione da lunghissimo tempo in atto, più volte osservati anche dalla magistratura, restituendo dignità ai lavoratori, provocando al contempo riduzione di spesa. Trattasi di norme regionali che sono frutto di un ampio ed articolato confronto con le parti sociali, tra le forze politiche del Consiglio regionale, in grado tra l'altro di assicurare un significativo miglioramento del Governo del sistema sanitario regionale, una razionalizzazione di costi, il miglioramento delle condizioni sociali ed occupazionali degli operatori, ha spiegato Nichi Vendola. Nonostante tutto il Governatore ha assicurato che provvederà a sospendere gli effetti degli atti sulle stabilizzazioni in sanità, la cui legge regionale è stata impugnata dal Governo davanti alla Corte Costituzionale ed intanto ha comunicato ai direttori generali delle ASL di sospendere qualsiasi processo di stabilizzazione in atto. Sono fatti salvi i provvedimenti che hanno già permesso agli ausiliari della sanità di essere assunti internamente alle ASL.